buongiorno e ben ritrovati con il nostro consueto disco del mese questa volta stiamo parlando di holst e dei suoi the planets una delle partiture più spettacolari del primo novecento l'occasione nasce in effetti dal fatto che la parte della redazione di avi magazine a febbraio andrà in trasferta a monaco di baviera dove nella splendida sala del gastai che ascolteremo i munchen filarmoniche reseguire proprio i pianeti di holst per gli appassionati della musica da film vi dirò anche che al secondo tempo nella versione per grande orchestra ci sarà la suite da guerre stellari di john williams ma questo è un altro discorso se volete 14 15 e 16 febbraio l'occasione è quella di parlare di alcune delle più recenti edizioni in discografiche di questo capolavoro si tratta di una suite sinfonica ispirata ai pianeti del sistema solare non c'è la terra perché si parla degli altri pianeti e non c'è plutone perché nel 1914 quando holst scrive alla vigilia della prima guerra mondiale questo brano plutone non era ancora stato scoperto ebbene l'ispirazione ai pianeti è quella in chiave astrologica quindi ciascun pianeta come marte per esempio dio della guerra ispira uno dei brani più impressionanti della partitura poi c'è mercurio il messaggero alato e così via ma l'invito è quello di scoprirla insieme a voi ebbene tra le più recenti edizioni posso segnalare anche per coloro che sono dotati eventualmente di un impianto multicanale questa della bis ed è un'edizione con la filarmonica di bergen diretta da andrew litton interessante l'abbinamento inglese perché è con una pagina di elgar come le mitiche enigma variations benissimo tra le chicche che ci siamo comprati nell'ultima nostra visita a monaco c'è questa edizione è un super audio cd multicanale naturalmente che potete ascoltare anche in stereo ma anche binaurale per chi ha predilige l'ascolto in cuffia e questa è una versione molto interessante perché per come potete vedere un arrangiamento per due organi e percussioni naturalmente non mancano altre edizioni dei pianeti di holst ma di queste leggerete con più attenzione sulle pagine di av magazine grazie per essere stati con noi a presto